Luisana De Simone, laureata presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, ha sviluppato la propria ricerca artistica intorno a quelle che sono le tematiche del vuoto, passando dal vuoto esistenziale e di se stessi, svuotamento della persona, al vuoto che può celarsi dietro le dipendenze. Questa mostra è intitolata In silenzio, appunto perché mi raccolgo nel mio silenzio prima di riuscire ad esternare quelle che provo. Quello che dico alle persone quando servono i miei lavori, innanzitutto non è quello che io voglio dire, cioè nel senso che dico a loro di porsi secondo il proprio sentire, senza badare a quello che io avevo bisogno di dire quando ho realizzato queste cose. Quello che viene dalle mie spalle innanzitutto è un progetto, che è il mio progetto di desiderio, il bienio, all'Accademia di Belle Arti di Napoli, in grafica d'arte per l'incisione, ed è chiamato il buracchinaio delle ombre. Questo perché? Perché in un certo senso io ero il buracchinaio di me stessa, nel senso che io mi sentivo un'ombra sia un qualcosa di informe, di oscuro, quasi un riflesso, della realtà di qualcun altro. Infatti questo progetto parla delle mie dipendenze e maggiormente della dipendenza affettiva. Parlo della dipendenza dei disturbi alimentari, quindi dal DCA, alla dipendenza della nicotina, e infine, che poi è l'unica opera che rappresenta la dipendenza affettiva, che è quella. Allora, quella è la più importante ed è unica, è singola, è dal centro ed è frammentata, quindi sono due parti, perché non ero io in quel caso. Io mi sono riconosciuta nella mia dipendenza dal cibo e dalla mia dipendenza dalla nicotina, sì, ma nella mia dipendenza affettiva no. Razionalmente lo sapevo, ma non ero in grado di riuscire a reagire alla situazione, nonostante io ero in grado di analizzare razionalmente il tutto. Quindi, se siete avvicinati all'opera, riuscite a notare come il mio volto sia un po' corroso, che in realtà è stato un errore durante l'incisione della matrice, però di ogni errore io ne faccio un valore. In quel caso era appunto la mia anima ad essere corrosa, quindi ho deciso di non accortare alcuna modifica e di lasciare intravedere il mio volto, sì, ma non di effettivamente guardare il dettaglio di quello che erano i miei occhi o le mie labbra o il mio naso. Si legge solamente la forma, quindi viene fuori un'ombra, ma in quel caso un'ombra luminosa. E mi sono laureata in grafica d'asti per l'incisione, quindi lavoro su matrici di metallo. Queste sono stampe realizzate attraverso delle matrici di zinco, che sono state lavorate tramite due tecniche, che sono l'acqua tinta e l'acqua forte. Prima sono state lucidate per renderla a specchio, perché anche queste elastrine fanno parte del progetto, perché come io ho esposto la mia caverna con i miei autoritratti, che sono i primi che realizzo poi su matrice effettivamente, quelli sono lo specchio della caverna dell'osservatore. Perché poi ognuno di noi ha la propria caverna. Io ho voluto rappresentare la mia, che è svuotata dai miei mostri, dai miei demoni, da quelli che mi hanno seguito per anni, perché è consapevole di quello che avevo vissuto. Ho deciso di rappresentarla con un tono caldo, perché in fin dei conti poi è accogliente. Ma ogni tanto torno comunque lì a ricordarmi un po' quello che ho passato, non perché voglio in un certo senso stare male, ma perché io sono grata a quello. Cioè, sono grata perché se non avessi affrontato tutte quelle difficoltà oggi non sarei sosta. Non avrei questa consapevolezza, non avrei questa forza, non avrei questa fierezza, e non avrei appunto superato il limite di espormi nuda, perché poi in realtà sono degli scatti, dove sono spoglia da tutti i vestiti, ma sono spoglia anche da quelle che erano le mie debolezze. Barriere. Poi in realtà ho anche superato un altro limite, perché io non mi espongo. Sono una persona molto riservata. Non mi espongo e porre il mio io, la mia essenza a persone che non conosco, per me è superare il mio limite. E io non voglio smettere di farlo, perché poi alla fine il limite è solo mentale. Quindi ce lo poniamo noi stessi, ed è banale rinchiudersi in quella gabbia, perché già la società ci rinchiude in un certo senso in una gabbia, quindi perché non essere liberi almeno per noi stessi. Grazie.